a casa tutti bene francesco acquaroli paola soggio voi siete i patriarchi della famiglia in particolare pietro è il proprio il grande capo sia del ristorante ma è quello che anche poi il più ricco ma anche il più duro e ha un rapporto diverso con ognuno dei suoi tre figli quindi raccontiamo un attimo questo personaggio che è un po quello che lega tutto il resto della famiglia c'è sempre il problema io credo soprattutto in questo in tutte le epoche tra il padre la madre e propri figli che il la differenza generazionale cioè tutti devi rapportare con delle persone che sono cresceranno con valori diversi in un mondo completamente diverso avranno svilupperanno sensibilità e capacità completamente diverse e il problema del del patriarca in questo caso visto che parliamo della famiglia patriarcale quindi impostata un po al vecchio stampo al vecchio modo è quello di trovarsi a voler trasmettere un mondo a persone che probabilmente non hanno più la capacità di ricevere certi 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 messaggi e quindi si trova sempre è sempre come dire sempre scontento è sempre come dire non soddisfatto delle risposte che riceve questo è uno dei 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 temi del del mio personaggio principale e poi i rapporti diversi perché naturalmente sono tre persone completamente diverse e che sono in una situazione completamente diversa perché mentre io sono partito a zero mi sono fatto da solo e sono diventato uno importante loro si trovano diciamo orizzontalmente a dover competere l'uno con l'altro per per raggiungere questa 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 figura che sta al di sopra di loro e che ci tiene a stare al di sopra di loro quindi insomma insomma è chiaro che tutto questo genera tensioni che sono adesso non stiamo a spoglierare è di tutt'altro tipo invece maria maria che è la sorella di pietro però a differenza sua è la sua famiglia è abbastanza indigente e soprattutto anche lei alle prese con due figli abbastanza per un motivo per l'altro scavestrati quindi la classica madre che deve cercare di andare a mettere le toppe laddove loro non non arrivano ci prova e per questo poi chiede aiuto al fratello il quale quando può la mano gliela dà non sempre è possibile e non sempre è facile maria è una donna in credito col mondo in credito con la vita non è soddisfatta di quello che ha fatto non è soddisfatta di quello che fa è una donna dimessa un po ipocrita in certi casi forse opportunistica però vuole bene a questo fratello e il fratello gliene vuole a lei stante che il fratello forse è più sembra più duro di quello che appare perché come fratello io l'ho sentito sempre dolce nei miei confronti anche se poi non ha sempre risposto di sì alle mie domande diciamo così perciò è una donna che fatica a vivere che gestire questi figli non è semplicissimo lei probabilmente non è stata mai abbastanza capace a farlo perché se no non succederebbe quello che poi succede così è maria maria è sottotono diciamo così chiaro che non ha le possibilità economiche di avere una casa come quella del fratello tutta contenta quando va a mangiare al ristorante del fratello quando viene in qualche maniera coinvolta nelle cose di famiglia perché almeno c'è un attimo di come dire di tranquillità di sole una cosa comunque bella ecco ecco ma secondo voi il successo di film e serie che raccontano queste famiglie così disfunzionali deriva dal fatto che il pubblico vedendole è più l'immedesimazione perché magari a casa si hanno problemi analoghi o forse addirittura un volere esorcizzare i propri problemi nel senso vediamo questi che stanno peggio di noi tutte e due le risposte mi sembrano giuste brava con perché perché magari ci sono cose in cui ti riconosci altre che non hai vissuto personalmente ma che hai immaginato di poter vivere o che hai sentito amici e amiche che magari nelle loro famiglie è esattamente così che che avviene quindi io credo che riflettere sulla famiglia sia per tutti interessante e attraente quindi concordo totalmente con lui perché l'identificarsi è chiaro che ci sarà un identificazione con qualcuno dei personaggi e la stessa cosa succede a chi madonna ma sta famiglia diciamo giudicante o o addirittura disapprovando le dinamiche della famiglia ristuccia mariani io credo che pubblica merà molto questa cosa perché c'è entrambe le cose sia l'identificazione che il ricusare queste reazioni di questa famiglia per o meno e in chiusura voi dei registi ne avete frequentati tanti due due parole su come lavorare con muccino è che ovviamente è la domanda che è una come dire è qualcosa che augurerei a tutti gli attori e tutte le attrici che a cui voglio bene a quelli cui non voglio bene ma voglio bene auguro di lavorarci perché è una persona è una regista che ti mette veramente è come se fosse una specie di regista dopante cioè ti topa e quindi riesci a a ottenere diciamo performance che insomma di cui poi non ti vergogni ecco bellissima questa cosa sì sì concordo totalmente è una è una un'esperienza perché è un regista estremamente generoso e anche una persona estremamente generosa e si vede lui sul set da tutto di sé e tutti senti no allora lo posso fare pure io nel senso che leva tutte non è così levi tutti gli orpelli tutto quello che che puoi levare e cerchi di dare il meglio di per questo che poi il prodotto questo a mio avviso è meravigliosa è bellissima sta serie e la gente l'amera moltissimo benissimo allora diamo l'appuntamento il 20 dicembre su sky grazie e complimenti grazie